Siamo in 5 giorni, perciò raddoppiamo rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto un lavoro lungo un anno di sperimentazione, proporremo anche dei prodotti nuovi, come la morta dei bufala, il vius di bufalo, anche del tipo di formaggi che abbiamo fatto affinare in quest'anno per esempio. 8 appuntamenti tra pranzi e ceni che i napoletani potranno prenotare attraverso una casella prenotazioni, in cui proponiamo da un antipasto a un primo, un secondo, a un dolce, tutto a base di bufala.